Creo, toni basic, superfici delicatamente strutturate, sono lo sfondo raffinato e neutro per l'espressività, anche il gestuale, del decoro proposto a corredo. Smaltature super lucide danno voce a tonalità soft. Creo è dinamicità dell'extra size 30x90 cm e l'intramontabile classicità del 30x60 cm corredati da una proposta a decoro articolata per un mix di motivi geometrici e floreali di grande tendenza.